Sì, è un giorno importante di fede che ci accomuna tutti e da tre anni che aspettavamo questa festa e finalmente è arrivata. Cosa rappresenta San Caloggio? Per noi è tantissimo, è importantissimo. È un giorno che i fiteresi aspettano da sempre, da tre anni e siamo ben lieti di accogliere tutti i pellegrini che vengono ogni anno qui a piedi e la comunità è unita e ora ci facciamo questa processione e viva San Caloggio! La dobbiamo rendere vera, autentica, credibile nella vita di ogni giorno. Vedete, tante volte noi pensiamo, la fede ce la diamo tutti, più o meno, e però questo nonno, noi dobbiamo renderlo autentico quotidianamente. A volte noi pensiamo che avere fede significa quando ho tempo ogni tanto vado a messa. oppure io quando ho tempo leggo qualche bel libro e imparo qualche cosa. Andare a messa, conoscere la propria fede, certamente è importante, fondamentale, però Caloggio ci dice che la fede diventa autentica nella misura in cui diventa vita, diventa una testimonianza. Noi possiamo dire agli altri di credere, però le nostre parole resteranno vuote se quello che diciamo non trova una propria scondenza nella nostra vita. E allora ogni giorno con le scelte che siamo chiamate a compiere, nelle relazioni vicendevole, nella famiglia, nell'ambiente di lavoro, noi dobbiamo essere, dice Gesù, predicatori del Vangelo, annunciatore del Vangelo, non con le parole, ma con la nostra vita stessa. Questa persona ha Gesù, questa persona è riscevola del Signore, come lui in Matteo. Vangelo, non con le parole, ma 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 con Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facciamo la discesa di San Calogero, molto bella, molto suggestiva. È un segno che il Santo non è lassù in cielo soltanto, ma il cielo è dentro di noi e in mezzo a noi. Quindi lui è sempre per noi nel segno della Stata. Un avviso proprio perché ci vogliamo bene. Evitate per quanto è possibile l'assembramento che si può evitare. Sia nello scendere la vara, che va dietro, non fa neppure, se ne sorbitanti, come anche quando passa il Santo in mezzo, non buttatevi sopra. Il Santo arriva anche se tu non devi per forza toccarlo. Così, capite, evitiamo l'assembramento e per quanto è possibile che può anche le mascherine non usare, non è una cosa cattiva. Adesso la benedizione del Signore ci aiuta a vivere nel Santo Calogero, a seguire il suo esempio per amare il Signore e dargli testimonianza per la nostra vita. Il Signore sia un po' di noi. Dio, nostro Padre, che ci ha dimostrato oggi la testa di Santa Calogero, vi benedica, vi protegga e vi conferme nella sua pace. Cristo, Signore, che ha manifestato in Santa Calogero la voce alla nuova grigia della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Il Spirito Santo è in Santa Calogero, ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna e renda capace di attuare la vera comunione di fede e di amore della sua Chiesa. Amo. E la benedizione di Dio ti potrebbe, Padre, Figlio e Spirito Santo, riscenda su voi e con voi rimanga sempre. Amo. Nel nome del Signore, agendiamo in pace. Amo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.